E' come nell'infanzia della vita corporale, dopo Allan Kardec a cura di Vubi Mediterranea. Domanda, ci avete detto che l'anima dell'uomo alla sua origine è come nell'infanzia della vita corporale, che la sua intelligenza si sta appena destando e che essa tenta le prime prove della vita. Dove compie lo spirito questa sua prima fase? Risposta, in una serie di esistenze che precedono il periodo da voi chiamato umanità. Commento, nell'infanzia della sua vita corporale l'uomo ripercorre tutto il cammino evolutivo dall'istintività animale alla consapevolezza umana, che raggiunge da adulto. Tutto appartiene a ciò che i maestri immateriali hanno poi chiamato struttura matematica della realtà. L'uomo che noi vediamo dal punto di vista del sentire è ancora una piccola creatura in confronto al destino al quale è chiamato. Egli è un essere ai primi movimenti di sentire, per il quale non è sufficiente meditare e riflettere con la mente per evolvere. Ciò che egli pensa, l'ideale che egli concepisce ed intravede, deve tradursi in natura interiore, attraverso azioni nella vita del mondo fisico. Tutto ciò non è che una prima fase di evoluzione di quell'essere che un giorno, superato il divenire, si riconoscerà nell'assoluto. Grazie. 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 Grazie.